Incredibile soprattutto per questo olimpico pieno, prima volta che in questi quattro anni sono riuscito a viverlo, quindi emozioni incredibili grazie quindi a tutti, a tutto l'estadio, a tutti quelli che ci seguono. Quello che ci siamo proposti è dimostrare di nuovo la nostra passione, il nostro stile di gioco, essere credibili per tutto il mondo, quindi penso che piano piano ce la stiamo facendo. Non è ancora finita, manca i Gales. Super carichi chiaramente, ma con la testa bassa, l'abbiamo parlato anche dopo la Francia, c'è un pareggio con la Francia e Francia non significa niente, adesso una vittoria significa qualcosa in più, però ci manca un passo in più per fare storia, quindi è quello che vogliamo fare.